Oggi voglio parlarvi un pochino dell'astrolabio, per mostrarvi brevemente come funziona su un piano piatto. L'astrolabio probabilmente è stato inventato da Alessandria d'Egitto all'inizio del II secolo prima di Cristo. Si è diffuso, per poi essere largamente usato, fra i primi musulmani nel mondo. Attraverso la Spagna musulmana è arrivato in Europa nel X secolo. Le parti dell'astrolabio sono fissate su un'asse centrale. La cassa dello strumento si chiama Mater, che è un grande piatto con l'orlo graduato ed un anello dove può essere appeso. Inserito dentro al Mater c'è il Timping, o il piatto della latitudine, che reca le corrispondenze bionivoche delle coordinate dell'osservatore. Con i principali cerchi superiori ed i principali paralleli di latitudine, si può comprendere che questo può funzionare solo sulla superficie di una Terra piana. La rete mostra il percorso del Sole e la posizione delle stelle più brillanti. Attraverso l'ali d'Ada, o la riga diritta, con i segni che si trovano sulla retro dell'astrolabio, l'osservatore mira ad una di queste stelle per misurare la loro altitudine. La rete viene poi ruotata fino a che l'indicatore della stella si sovrappone ai paralleli della latitudine che corrispondono alla misurazione. Su un orologio di 24 ore, il tempo della notte viene fornito dall'angolo fra la posizione del Sole, dall'osservazione registrata del giorno, con un segno su una direzione fissa. Se invece il giorno o l'ora sono sconosciute, si può predire l'altitudine delle stelle. Inoltre per ogni giorno si è in grado di determinare il tempo dei corpi celesti, quando sorgono al culmine e quando tramontano. L'astrolabio ha migliaia di utilizzi, qui alcuni di essi.